accostamento quanto mai ardito direte voi dirà Flavia sicuramente Pino Daniele con a me mi piace o blues 1980 e da sup anzi ex da supreme ora da sup 2022 con carattere speciale anche la riconoscibilità anche la comprensione del testo è una cosa fondamentale Flavia quanto hai capito di questo io avevo davanti il testo ma aggiungendo tenendo presente diverse cose banalmente che appunto un artista con notissimo come da supreme sicuramente in una certa fascia di età cambi nome è un problema specialmente se molte delle cose avvengono con una ricerca elettronica per nome prima ti chiami da supreme già come si scrive da supreme è un problema adesso in un altro modo però non è un problema per lui o meglio è fondamentalmente è una cosa proprio fondamentale scoprire anche entrare nella sua tra virgolette filosofia questo personaggio questo artista è molto sicuro dei suoi mezzi è molto sicuro che il pubblico vero i suoi veri fan lo seguiranno a prescindere ed è molto sicuro che lui dividerà una platea e abbastanza se ne infischia di quelli che dicono eh ma non si capisce niente ma che lingua è certo me lo auguro perché non è in suo pubblico una cosa simile è possibile che sia stata pensata da pino daniele con nero a metà nell'ottanta ha fatto sicuramente grande scalpore grande notorietà anche per per questo disco ma per altro il la fusione la libertà di fondere linguaggi l'inglese il napoletano fondere anche degli stili dei ritmi è una cosa che vedo in comune tra da sup e e nero a metà e per da sup sicuramente stiamo parlando di un una serie di elementi che aumentano la difficoltà di comprensione per chi non è fortemente motivato ma è interessante leggere questo artista e questi queste produzioni queste canzoni anche nella nell'ottica del io comunque faccio musica quindi se ti piace se incontri il il se vuoi approfondire puoi scavalcare dei degli ostacoli che tra l'altro anche sono esplicitati nella nel titolo dell'ultimo disco che si chiama carattere speciale ma è scritto c chiocciolina tutti i caratteri speciali sì quindi banalmente andando un po oltre la e vabbè ma non si capisce quello che che dice si arriva all'obiettivo il risultato comunque l'obiettivo il target il paglione che si si centra è comunque musica godibilissima molto leggera dalle parti del rap della trap no della trap no però è molto ricca tra l'altro qui dentro sì ci stanno tante idee e l'abbiamo ne abbiamo parlato prima anche con con alessandro speranza le idee la complessità resa anche in maniera facile è una cosa molto molto complicata da realizzare io tengo sotto occhio molto volentieri questo questo artista che appunto se ne infiesca abbastanza di essere intellegibile io credo che questo sia un po legato anche proprio all'atteggiamento di una un di un artista che diciamo sa di far parte di un panorama musicale che è esponenzialmente infinito perché voglio dire se tutti quanti cioè adesso c'è talmente tanta roba e le persone in particolare il target di da su da sup è talmente vasto e ha soprattutto talmente tante possibilità di trovare altre cose che se non la vivi così che fai cioè voglio dire dei primiti dei primi eh sì no bisogna bisogna un po darsi in pasto andare così con sprezzo del pericolo e buttarsi un po in mezzo nello giustamente scrive a me carattere speciale ha ricordato anche stevie wonder beh sì un po un po fanchettone cioè ci sì sì assolutamente sì signori abbiamo come una sensazione anche di rinnovato interesse strumentale piano piano in questo mondo anche se gli strumenti non è detto che siano veli nel senso che siano però mi sembra di capire che ci sia un nuovo interesse sulla complessità eh arrangiativa non lo so è una sensazione mia però mi mi dà l'idea che si vada si stia un po riandando in quella direzione assolutamente sì da sup è sicuramente una persona che si diverte a fare musica secondo me il lo scavallamento della trap così pura sta portando forse a un cercare delle forme ibride eh magari tenendosi più la parte eh cantata diciamo le parole legate al mondo della trappa alla ritmica della trap però legandole con a qualcosa di più complicato ecco sì sono contento di aver fatto questo discorso di averlo anche registrato perché è esattamente questo il campo in cui vuole lavorare tra l'altro noi prima abbiamo sentito iverdena che da 20 anni e passa della della leggibilità delle parole proprio se ne strafregano e quindi sì abbiamo messo in mezzo anche con stevie wonder grazie nello per questo messaggio perché effettivamente abbiamo messo in campo dei mostri niente male e da sup ci sta ci sta dentro questo pure questa è lettura metropolitane su radio elettrica grazie a tutti